Hanno preso ufficialmente avvio il 15 maggio i lavori per il passante e la stazione alta velocità di Firenze. Evento simbolico, la presentazione all'autorità del governo, della regione e degli enti locali della talpa soprannominata Iris, che dai primi di giugno inizierà a scavare un tunnel di 7 km di lunghezza a 20 metri di profondità con l'obiettivo di finalizzare il passante, che sottoattraverserà la città entro il 2028. Complessivamente il sottoattraversamento prevede due gallerie parallele, una per ogni senso di marcia, collegate tra loro con il bypass di sicurezza ogni 500 metri, tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e la zona di Viale 11 Agosto, situata tra le stazioni di Firenze di Fredi e Firenze Castello. Qua ripeto, stiamo parlando di un progetto che nasce nel 1996, l'avvio dei lavori doveva essere nel 2007, quindi 16 anni fa, e poi fallimenti, ricorsi contro ricorsi, cambi di qua, cambi di là. Io conto che questa sia la volta buona non solo per questo, ma per l'alta velocità in tutta Italia, per la Napoli-Bari, per la Palermo-Messina. Il mio obiettivo, il mio lavoro, quello per cui gli italiani mi pagano, è sbloccare, progettare, finanziare, accelerare. La nuova stazione Belfiore, servita dai treni a alta velocità, sarà interconnessa con quella di Firenze e Santa Maria Novella e con l'area urbana grazie a diverse modalità di trasporto. Il nuovo People Mover, la linea 2 del sistema tramviario cittadino già in esercizio, e i bus urbani, opportunamente potenziati. Mentre la nuova fermata ferroviaria circondaria, raggiungibile con un percorso pedonale, consentirà la connessione con la rete regionale, un'opera importante che servirà per il miglioramento del servizio e una migliore gestione dei treni superveloci, fondamentale per l'intero paese. Spostando il transito dell'alta velocità nel sottosuolo, si libereranno tempi, spazi e binari da destinare ai treni regionali, per aumentarli e potenziarli. Le ferrovie hanno deciso alla fine di cambiare l'assetto delle aziende impegnate nei lavori. Non c'è stato più l'appalto esterno, ma c'è stata una presa in carico diretta con società acquisite dal gruppo. E questo ovviamente ha risolto molti problemi, perché non dimentichiamoci, uno dei motivi del rallentamento e del blocco è stato il fallimento della ditta che era incaricata di eseguire i lavori. Del resto Firenze è un imbuto da un punto di vista ferroviario, il cuore del collegamento fra Roma e Milano, ovvero la colonna vertebrale del nostro paese e qui in alcuni tratti si va a due binari, treni pendolari, treni merci, treni regionali, intercity, alta velocità, tutto su una tratta. Dicevano in questi giorni che a Rifredi per passare un treno ad alta velocità ce ne erano cinque fermi. È evidente che il passante sotterraneo raddoppia la capacità e rende un servizio a tutta l'Italia. Tra i dettagli dell'opera non banale il dato sull'occupazione. Dal momento che, a regime, lavoreranno al passante circa 400 persone al giorno e il cantiere della Flesa Iris sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, per le terre di scavo è stata individuata una soluzione di economia circolare. Verranno trasportati con l'impiego di treni a Cavriglia, dove verranno impiegate per riempire le miniere di lignite. Il progetto sarà accompagnato da cartelli esplicativi, i cosiddetti cantieri parlanti, implementati negli appositi infopoint preparati per fornire aggiornamenti e informazioni ai cittadini. Il passante sarà realizzato in parallelo ai numerosi interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che la nostra rete ferrovia italiana sta portando avanti sul nodo fiorentino in una logica complessiva di incremento della capacità e delle prestazioni del sistema. Questo farà aumentare la capacità di trasporto proprio delle linee di superficie e quindi, evidentemente, avrà dei benefici importanti anche sul traffico regionale, aumentandone la capacità e la disponibilità di tracce. Stimiamo un impatto fino a un aumento del 50%. Stimiamo un impatto fino a un aumento del 30%